io, non ho capito a fare queste storie io, non ho capito io ho capito io, non ho capito io, non ho capito me ne sono già capito e io sono andato dopo e ti mando a fare un'autolo io mi sono andato, io sono andato un po' buon caso dove andato Sì, siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti. E poi ho parlato, mi ha detto che siamo pronti per tre giorni. E dove stai peccati? Sì, siamo pronti. Ma non abbiamo pronti, non abbiamo pronti. Ma non abbiamo pronti. Ma non abbiamo pronti. E poi stai a metter la rolle, poi stai a tracciando una stranata. Stai a metter la russa. Da te metter la russa. Stai a metter la russa, ma non sono pronti. No, ma siamo pronti. C'è un po' di chci, la mia è la stavola. E dove stai a metter la tabla, che ora è la stavola. Stai a svegli. Vete, come va bene il sunto, siamo selati. Sì, ci siamo pronti. L'agrido, tu si metti il grattato. Tu sei un grattato, tu sei un grattato, si un grattato è rimasto in Europa, e si metti il culo, e e il culo. E tu metti il raggio? Qui ha? Qui ha? E il pregio il grattato? C'è stato un po' di Sava che c'è stato un po' di Sava che c'è stato un po' di Sava. Dice, ma questa è stata un po' di Sava che c'è stato Gentile.